Nuovo ospedale di Pesaro ha firmato il contratto per avviare i lavori a Muraglia Affidi facili dopo l'inchiesta Biancani riorganizza la macchina comunale Omicidio Panzieri nel Tribunale le testimonianze di ricostruzione del delitto Paura a Cantiana dopo l'esondazione del Balbano, oggi ripristinato il ponte Il turismo delle Marche in vitrina al TTG di Rimini Una buona serata telespettatori di Rossini TV e ben ritrovati con una nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi venerdì 11 ottobre che apriamo con una importante novità che riguarda la sanità pesarese Oggi in regione è stato ufficialmente firmato il contratto per il nuovo ospedale di Pesaro che di fatto apre la strada alla partenza delle cantiere Vediamo I lavori del G7 Salute di Ancona si sono conclusi oggi con un punto di svolta per la sanità pesarese A Palazzo Raffaello è stata ufficialmente posta la firma sul contratto del nuovo ospedale di Pesaro da realizzare sul sito dell'attuale nosocomio di Muraglia punto di arrivo di una serie di risoluzioni burocratiche punto di partenza per una nuova pagina della salute marchigiana È stato scelto a Ancona e la nostra regione come sede del G7 Salute anche perché abbiamo il migliore per due anni consecutivi ospedale d'Italia che è quello di Torrette Vogliamo fare ancora di più tanto che da oggi inizia la procedura vera di costruzione del nuovo ospedale di Pesaro grazie alla firma del contratto con la società di tecnici con il raggruppamento di tecnici che hanno vinto la nostra gara di progettazione Questo è molto importante perché la firma cade per coincidenza ovviamente nella giornata conclusiva del G7 si chiude la pagina del G7 che attesta dati molto importanti anche sulla salute, sulla sanità anche sui numeri della sanità marchigiana rispetto alle altre regioni italiane viene sottolineato che siamo ancora una regione benchmark quindi una delle migliori regioni italiane anche nella gestione dei conti apriamo una nuova pagina che è quella del nuovo ospedale di Pesaro che costruiremo qualcuno ci criticava, ho letto tante interviste sulla stampa ho ascoltato tante interviste alla tv anche di autorevoli esponenti della sinistra pesarese mentre la sinistra pesarese faceva chiacchiere sulla sanità noi costruiamo nuovi presidi ospedalieri il nuovo ospedale di Pesaro a servizio della città di Pesaro moderno, sicuro che migliorerà anche le prestazioni ecco, questi sono fatti rispetto alle chiacchiere di tanti altri La firma sul contratto del nuovo ospedale è stata possibile grazie alla risoluzione nei giorni scorsi di un ricorso pendente sulla gara d'appalto per la progettazione dello stesso ospedale Il ricorso vinto sulla procedura del nuovo ospedale di Pesaro la seconda classificata nella graduatoria di aggiudicazione della progettazione del nuovo ospedale di Pesaro aveva legittimamente presentato un ricorso per difendere le proprie prerogative in una procedura il ricorso è stato respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche che conferma una regolarità della procedura realizzata dagli uffici della nostra regione Marche non solo dall'edilizia sanitaria e ospedaliera ma in modo particolare la stazione appaltante della regione Marche per questo ringraziamo soprattutto per la rapidità dei giudici amministrativi che sono entrati nel merito del ricorso e hanno riconosciuto le pieni ragioni della regione Marche che oggi può quindi procedere alla costruzione del nuovo ospedale di Pesaro essendo anche certi della regolarità del procedimento di assegnazione della gara e torniamo ora ad occuparci dell'inchiesta della procura di Pesaro sui cosiddetti affidi facili delle comune che ieri ha portato a bene 7 ore di controlli di polizia e guardia di finanza negli uffici del municipio e nei domicili di 5 dirigenti comunali nell'occasione il sindaco Biancani ha ribadito come si stia lavorando per apportare sostanziali modifiche alla struttura degli uffici comunali Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ribadisce un'imminente riorganizzazione dell'impalcatura della macchina comunale lo aveva preannunciato in campagna elettorale lo ha rimarcato a margine del convulso 10 di ottobre che ha portato per 7 ore gli inquirenti di polizia e guardia di finanza negli uffici comunali pesaresi e nei domicili di 5 dipendenti comunali nell'ambito dell'inchiesta della procura sul caso degli affidamenti diretti alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare Un'inchiesta che ha allargato a 3 il numero degli indagati dopo Stefano Esposto e Massimiliano Santini anche il funzionario comunale Loris Pascucci Al di là di quelle dell'indagine o della non indagine quello che mi caratterizza è sempre sicuramente la massima trasparenza e volontà di far sì che tutti gli atti vengono fatti nel migliore dei modi e quindi ho sempre rimarcato che con l'avvento del nuovo sindaco Biancani non è che voglio lanciare una discontinuità rispetto al passato ma il sottoscritto comunque vorrà agire nella massima trasparenza cercando anche di capire però quelle che sono le scelte che vengono fatte anche dai tecnici ovviamente la responsabilità dei tecnici rimane dai tecnici e della politica rimane della politica voglio anche annunciare che stiamo lavorando a un bando per la definizione, per la scelta del nuovo segretario generale attualmente il segretario che era in funzione all'interno di questa amministrazione ha deciso di andare a lavorare in un altro comune e quindi noi stiamo facendo un bando appunto per la scelta del nuovo segretario fino ad oggi abbiamo fatto le funzioni, le ha svolte la vice segretaria che poi è la dottoressa Nonni e quindi a breve uscirà anche il bando per la definizione del nuovo segretario generale un bando per il segretario comunale che si aggiunge ad ulteriori tasselli da sistemare il prossimo atto che faremo, che farò come giunta sarà la nuova organizzazione alla quale sto lavorando già da diverse settimane e quindi ci saranno sicuramente delle novità rispetto ai ruoli che oggi alcuni dirigenti hanno all'interno della macchina comunale quindi nelle prossime settimane ci sarà la nuova organizzazione e uscirà anche il bando per scelta del nuovo segretario generale E questa mattina nel Tribunale di Pesaro c'è stata un'altra udienza del processo a carico di Michael Alessandrini il 31enne pesarese accusato dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri ucciso con 23 coltellate nel febbraio del 2022 oggi è stato il giorno delle testimonianze Non era oggi in aula Michael Alessandrini erano invece presenti familiari e amici di Pierpaolo Panzieri in una mattinata nel Tribunale di Pesaro dedicata all'udienza dei testimoni dell'accusa e del dirigente della squadra mobile di Pesaro Paolo Badioli che con il supporto delle immagini di videosorveglianza acquisite ha ricostruito momenti chiave di quel 20 febbraio 2022 in cui Alessandrini uccise con 23 coltellate l'allora amico Pierpaolo nella sua casa di Via Gavelli in aula scorrono le immagini di Alessandrini che arriva a casa di Panzieri con tanto di spesa per la cena così come quelle di quando fugge dopo aver commesso il delitto allo stesso modo si susseguono le immagini acquisite della fuga in auto verso la Romania e poi messaggi, quello ad un terzo amico al quale Alessandrini avrebbe chiesto di non presentarsi a cena in quanto bisognoso di alcuni chiarimenti con Panzieri e il vocale ascoltato in aula che Alessandrini ha inviato al padre dopo il delitto tutto bene, comunque alla fine abbiamo risolto, non è successo niente una serie di elementi emersi in una mattinata in cui l'avvocato di Alessandrini, Salvatore Asole ha messo in chiaro la sua linea difensiva diciamo che noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio che a nostro giudizio quelli aggravanti sono insussistenti perché non sorrette da nessun riscontro investigativo, probatorio quindi mi riferisco in particolar modo all'aggravante della premeditazione e mi riferisco in particolar modo all'aggravante dei futili motivi naturalmente perché questo qua, perché io concordavo con la procura quella che era l'imputazione originaria dove si parlava di un preordinato intento perché ciò che è giusto bisogna dirlo nel senso che c'è stata poi tutta la fase successiva all'omicidio dove l'Alessandrini si è allontanato quindi per recarsi all'estero che questo farebbe presumere un preordinato intento cosa ben diversa dalla premeditazione per quanto riguarda i futili motivi a nostro giudizio non sussistono perché bisogna sempre tener conto che stiamo parlando di un soggetto dichiarato dai periti del GIP semi-infermo di mente pertanto un determinato episodio che per me potrebbe costituire un futile motivo per un soggetto affetto da determinate patologie non è un futile motivo quindi su queste due aggravanti diciamo che ci batteremo con forza per dimostrare la loro insussistenza resterebbe l'aggravante diciamo della crudeltà anche questa a mio giudizio insussistente perché se anche fosse questi morsi che lui avrebbe dato questo calcio che avrebbe dato alla vittima rientrerebbe nell'azione comunque omicidiaria quindi noi appunto ecco la nostra linea è quella di dimostrare l'insussistenza di queste aggravanti dopodiché far valere la semi-infermità come attenuante appunto diciamo da concedere comunque all'Alessandria è chiaro che nel gioco delle parti insomma ci sono delle aggravanti nel nostro avviso forse ce n'è un'altra da contestare ma lo faremo in udienza vedremo ad esito appunto dell'escursione degli ufficiali di PG che hanno effettuato tutti gli accertamenti e rilievi, ricostruito la scena del delitto e anche le modalità con le quali è stato purtroppo eseguito dall'imputato nei confronti di Panzeri vediamo oggi insomma oggi credo che già i giudici a Corte d'Assiso si faranno un'idea precisa di quello che è successo sono riaffiorate vecchie paure e vecchi disagi a Cantiano dopo che ieri la bomba d'acqua ha fatto tracinare il torrente Balbano rendendo invalicabili le locali e guado di collegamento la frazione Pian di Balbano è rimasta isolata per tutta la notte con il guado liberato solamente questa mattina dopo l'intervento dei Vigili delle Fuoco si tratta di un guado provvisore da due anni dopo i danni causati dall'alluvione del settembre 2022 i Vigili delle Fuoco hanno liberato il Ponte reso percorribile la strada di collegamento fra la frazione e il resto del territorio comunale rimane regolarmente in programma la 45esima edizione di Cantiano Fiera Cavalli in programma questa domenica Piogge che anche a Pesaro ieri hanno rinnovato il problema del centro direzionale Benelli e della sua tettoia sempre più pericolante dopo il sopralluogo dello scorso 1 ottobre il sindaco Biancani e l'assessora della Dora hanno rimarcato oggi come si stia dando un incarico ad un tecnico per individuare la soluzione progettuale migliore che garantisca la sicurezza e che consente il mantenimento delle travi nel legno e lamellare esistenti si tratta di un intervento delicato e dispendioso si stanno cercando all'interno delle bilanze le risorse per un intervento destinato a superare i 200.000 euro e domenica 13 ottobre Pesaro ospiterà la 74esima giornata delle vittime degli incidenti sulle lavoro un momento in cui l'AMNIL analizzerà i dati su infortuni e malattie professionali che andiamo ad esaminare in questo servizio si terrà a Pesaro la 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro promossa dall'AMNIL provinciale domenica 13 ottobre con un momento di confronto a partire dalle 10 che si terrà a Palazzo Gradari in merito ai dati del 2024 studiati in provincia dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro provincia che sembra segnare il passo su questa piaga dove rispetto allo stesso periodo del 2023 i dati al 31 luglio indicano una sostanziale parità 2411 denunce un caso in più rispetto allo stesso periodo gennaio-luglio delle 2023 a livello regionale gli incidenti sono cresciuti dell'1% in calo le denunce per infortuni mortali passate nel Pesarese da 4 a 1 e a livello Marche da 15 nel 2023 a 9 casi nei primi 7 mesi del 2024 una controtendenza che non riguarda il quadro nazionale i primi 7 mesi hanno fatto registrare 350.823 denunce 1,700% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente così come sono leggermente aumentati i casi di incidenti mortali passati dai 559 episodi del gennaio-luglio 2023 ai 577 casi dei primi 7 mesi del 2024 sul versante malattie professionali il periodo gennaio-luglio nel Pesarese ha fatto registrare 1.099 denunce ovvero 35 e meno rispetto allo stesso periodo del 2023 non va altrettanto bene a livello regionale dove le malattie professionali sono aumentate del 14% passando da 4.329 a 4.934 casi lo stesso dica sia a livello nazionale dove si è registrata una preoccupante impennata dei casi passati da 44.433 a 54.471 con un più 22,6% Andrea Mancini sarà il nuovo coordinatore dell'ambito territoriale sociale 1 a comunicarlo sono il sindaco Andrea Biancani e Luca Pandolfi presidente del comitato dei sindaci della TS1 e assessore alle politiche sociali delle comune Mancini è già figura nota e apprezzata nelle welfare del territorio essendo da anni punto di riferimento come coordinatore della Caritas di Pesaro Mancini succede al ruolo ricoperto da 10 anni da Roberto Drago e ora andato in pensione e si è concluso nella giornata di oggi venerdì a Rimini il TTG Travel Experience la più grande fiera nazionale dedicata al turismo in cui le marche si sono messe in vetrina con la loro varietà di proposte TTG Travel Experience Rimini edizione 2024 siamo alla 61esima edizione di questa che è sicuramente una delle manifestazioni di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda la proposta turistica la proposta turistica italiana e non solo la proposta turistica mondiale noi siamo naturalmente al padiglione della regione Marche per raccontarvi un po' che cosa la nostra regione sta proponendo in questa importantissima manifestazione Siamo molto soddisfatti abbiamo portato qui al TTG circa 70 operatori del turismo che quindi hanno l'occasione di proporsi con business matching e con un'agenda veramente importante a questo evento e abbiamo raccolto un grado di soddisfazione anche da parte degli operatori è stata dedicata molta attenzione proprio alla loro attività per far conoscere ovviamente la regione e la sua caratteristica poliedrica che ci contraddistingue quindi una regione che può offrire veramente un crocevia di esperienze tra cultura, arte ovviamente natura che abbiamo declinato in una campagna promozionale in cui diciamo mare e montagna perché ovviamente in pochissimo tempo riusciamo a raggiungere nella nostra regione sia il mare che la montagna in un brevissimo tempo con Atim lavoreremo molto a una programmazione nuova del 2025 dove abbiamo l'intenzione di portare principalmente la nostra regione sui mercati nazionali e sui mercati internazionali più importanti quindi ovviamente Nord Europa ma anche nuovi mercati tra cui appunto anche l'America e quindi l'occasione per Atim di fare da sfondamento rispetto a mercati nuovi e portare turisti stranieri Noi abbiamo una storicità sull'offerta turistica balneare importante ma da sola non basta bisogna e dobbiamo puntare anche su un discorso di destagionalizzazione quindi di presentare un'offerta turistica che possa valere tutto l'anno e per questo anche un forte impegno per valorizzare un turismo dei borghi dell'entroterra, delle aree interne abbiamo fatto una legge sui borghi e uno degli elementi forti da questo punto di vista potrebbe essere proprio il concetto delle Marche Terra di Benessere e di Qualità della Vita vogliamo lavorare proprio nel cercare di trasmettere questo messaggio di una regione dove si vive bene dove si può anche mangiare sano una regione dove il turista si trova accolto come se fosse a casa propria e in una dimensione anche ambientale naturalistica importante una regione sostenibile ecco cerchiamo di lavorare sui nuovi elementi anche di un turismo che è attento all'esperienza è attento al rispetto dell'ambiente è attento a vivere anche in maniera immersiva determinate appunto realtà promuoviamo anche la nostra enogastronomia i nostri prodotti possono essere un traino fondamentale anche per valorizzare e far conoscere il territorio ovviamente le strutture ricettive fondamentali in questo discorso il TTG di Rimini è ormai diventato la principale fiera italiana del turismo anche a livello internazionale tra le principali ovviamente noi con l'associazione Inside Marche Live che conta una trentina di tour operator che promuove la regione e commercializza il prodotto e l'offerta delle marche in Italia e nel mondo non possiamo mancare quindi siamo sempre presenti con tutti i nostri associati cerchiamo di lavorare in sinergia con le istituzioni pubbliche quindi con la regione, i comuni e tutti gli ambiti territoriali questo perché secondo noi per poter promuovere il territorio nella maniera più efficace occorre lavorare insieme pubblico e privato facendo conoscere le nostre bellezze dal punto di vista culturale, paesaggistico, naturalistico facendo capire che se si viene nelle marche si troverà sempre qualcosa di nuovo è un'esperienza più interessante da vivere e ieri l'hotel Charlie di Pesaro ha ospitato il seminario organizzato da Confapi Pesaro Urbino in merito alle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale in ambito di business rivolto alle piccole imprese una tematica che sarà oggetto di uno speciale d'approfondimento che Rossini TV ha realizzato e che trasmetterà mercoledì 16 ottobre alle ore 21 ma del quale vi forniamo una piccolissima anteprima Che cos'è l'intelligenza artificiale e come pensa? Quali sono le opportunità e rischi dell'IA nel business? Queste ed altre le domande al centro del primo seminario dedicato all'intelligenza artificiale a misura di piccole e medie imprese organizzato da Confapi Pesaro Urbino al Charlie Urban Hotel alla presenza di un economista esperto della materia come il professore Fabio Scacciavillani Da parte nostra è importante dare la possibilità ai nostri associati di avere quell'azione informativa e formativa in merito all'IAI perché attualmente oggi tutti ne parlano ma pochissime persone riescono a definire bene la valenza e la portata di questa nuova tecnologia questa intelligenza artificiale che nasce tantissimi anni fa dall'incontro di un neurologo e un matematico se non mi sbaglio oggi si è talmente evoluta che da tradizionale e l'intelligenza artificiale tradizionale ormai è diventata generativa Come tutte le innovazioni anche l'intelligenza artificiale modificherà le professioni allora faccio un esempio banale prima dell'introduzione dei computer dei fogli Excel il contabile era una persona che doveva essere molto accurato perché doveva far quadrare i conti doveva essere bravo a fare proprio le addizioni e le sottrazioni e svolgeva un lavoro tutto sommato abbastanza noioso con l'introduzione di Excel il contabile fa qualcosa di molto meno noioso perché la parte ripetitiva dei conti la svolge il computer e quindi è diventato un professionista diverso ma non sono spariti i contabili oggi si chiamano magari financial officer il ragioniere capo si chiama chief financial officer quello che sto cercando di dire è che ci saranno delle trasformazioni in alcuni ambiti più che in altri ma alla fine il mondo si trasforma e gli umani tradizionalmente si sono sempre adattati a questi cambiamenti e con più o meno maggiore o minore entusiasmo poi le cose hanno portato a un miglioramento nelle condizioni di vita nel benessere nella facilità con cui si svolgono i compiti e sarà così anche con l'intelligenza artificiale nonostante coloro che predicono sventure nonostante coloro che si focalizzano sui rischi nonostante coloro che hanno voglia di rallentare piuttosto che di abbracciare i cambiamenti e concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport è una visiglia quanto mai inedita per l'AVL che torna in campo domani alle 21 a Rieti per la quarta giornata di campionata dopo che ieri coach Pino Sacripanti ha rassegnato le dimissione da head coach e da general manager della prima squadra per motivi strettamente personali domani sarai le vice Giacomo Baioni a guidare la squadra in attesa delle prossime decisioni di una società che potrebbe anche valutare la decisione come definitiva per il proseguo della stagione intanto nel ruolo di general manager è stato ufficializzato l'incarico a Matteo Maggi sulla continuità di un lavoro già cominciato lo scorso anno Walter Magnifico e Nicola Egidio continueranno a fare parte della direzione sportiva entrambi con il ruolo di assistant GM una partita quella della VL che come sempre potrete seguire in differita su Rossini TV infatti domenica alle 21.30 e lunedì alle 21 potremo rivedere la partita che si giocherà domani sera sul campo di Rieti al pari però della partita della Fiorini Pesaro Rugby che domenica inizia il suo campionato di Serie A debuttando alle Tecnobull Rugby parchi di Moraglia alle 15.30 contro Casale due reclutari giocherà in casa anche la Vise Pesaro che alle 17.30 aspetti il Pineto per tentare di ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi secondo impegno consecutivo in trasferte invece per la Megabox Vallefoglia nelle massime o campionato di volley femminile dopo la bruciante sconfitta ed esordio alle tie break maturata a Firenze le Tigri Biancoverdi proveranno a rifarsi le 17 a Perugia contro la Bartocini MC Restauri e con lo sport termina la nostra nuova edizione di Rossini News prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo gli appuntamenti in onda questa sera su Rossini TV a cominciare subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale alle ore 20 con il nostro magazine La Natura della Cultura scopreremo Lunano che sarà capitale alle quadrato la prossima settimana nel progetto 50x50 e vi ricordo della nostra prima serata si parte alle 21 con la fiera nazionale del tartufo bianco operaggiato di Pergo la fiera che abbiamo seguito la scorsa domenica e che si riproporrà domenica 13 e domenica 20 a seguire alle 21 e 20 si avvicina sempre di più il nostro verso il festival GAD terza ed ultima puntata con Paolo Pagnini e Cristian della Chiara e poi vi ricordiamo il festival che inizierà lunedì vi ricordo il nostro appuntamento con la rassegna stampa domani mattina il nostro Paolo Pagnini ci farà compagnia a cominciare dalle 7.20 in diretta anche sulla nostra pagina facebook e sulla nostra app e poi le repliche che vedete in grafica lo ho accennato prima ma ve lo ricordiamo vista la grande importanza comunque che quest'anno la nostra tv ha in collaborazione con la VL come media partner domenico alle 21.30 lunedì alle 21 si potrà rivedere la partita reale Sebastiani Rieti contro Carpegno prosciutto basket pesero ed è davvero tutto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana e un buon